Mi chiamo Nick Palumbo, veramente mi chiamo Domenico Palumbo, qui in Australia mi chiamano Nick. Sono nato in Adelaide nel 69, papà è di Messina, mi sono sposto qui nel 67 e poi nel 68 e nel 69 sono nato io. Mio nonno di Messina era un connoisseur di pasticceria e mi ha portato in un locale che si chiamava Herrera in piazza Chiarola in Messina e per la prima volta ho assaggiato la granita, la famosa granita di fragola e poi la granita di caffè. Ho pensato che il gelato sarebbe un modo di avere un'espressione quasi artistica dove ogni giorno inventare dei nuovi gusti e allora mi sono trasferito da Adelaide proprio con quest'idea di aprire una gelateria a Sydney.